Presidente Lucio Zazzara, il Parco Nazionale della Maiella si rinnova con un nuovo sito istituzionale? Sì, il parco si rinnova anche seguendo un'esigenza che emerge molto forte, soprattutto che è stata coltivata in questo periodo, che è quella di utilizzare sempre più i mezzi informatici per accedere ad ogni tipo di informazione ed anche per programmare il proprio tempo libero, visto che ora ci si può muovere di nuovo. Noi abbiamo già avuto delle iniziative in questo senso per favorire la visita del parco, iniziative preparate negli ultimi giorni della chiusura e poi sviluppate da circa un mese fa in poi, che hanno prodotto una serie di proposte, un catalogo di proposte di visita del parco, ben organizzate, concordate con i nostri centri di visita, con le nostre guide, quindi una serie di possibilità di scoprire le risorse di questo territorio. Questa cosa è stato un materiale e ha costituito una riflessione per rinnovare completamente il sito, che naturalmente, diciamo, dal punto di vista generale era già in fase di aggiornamento, ma mirandolo soprattutto sulla possibilità di fornire informazioni utili in questo senso, cioè sulla possibilità di costruire i propri percorsi e di sapere quali sono le opportunità sia in senso di visita, di raggiungimento di determinati obiettivi, sia nel senso di ottenere il supporto nelle varie tipologie che si possono offrire. Io penso che questo supporto nel senso di guide, di accompagnatori e ovviamente di tutta l'organizzazione che consente di fare questo tipo di visita in sicurezza. Io credo che noi continueremo su questa linea e credo che arriveremo a fornire un servizio sempre più completo, rivolto soprattutto ad un turismo di permanenza, un turismo interessato a visitare in maniera più articolata il territorio del parco, a rimanere diversi giorni e quindi pensiamo di dare un'informazione che comprenda anche tutto il sistema recettivo con le sue caratteristiche, con le sue opportunità e quindi naturalmente con tutte le localizzazioni e le informazioni che da un punto di vista logistico possono servire. Sì, un modo per accedere quindi più facilmente alle informazioni, ai servizi come le prenotazioni, all'interazione tramite i social, è importante per gli abruzzesi, per i visitatori da fuori regione ma anche dall'estero in qualche modo. Ma noi sapevamo che il turismo ecologico e culturale, il turismo ambientale in generale sta avendo in questi recentissimi anni un grande sviluppo ma devo dire che forse il periodo del Covid ha prodotto un'accelerazione soprattutto per l'associazione dell'ambiente del parco con lo stato di salute e quindi abbiamo avuto un'esplosione della domanda. Il nostro problema è quello di organizzarla per garantire le stesse condizioni di sicurezza a tutti quanti ma anche per garantire sempre più e sempre meglio le condizioni di accesso ai beni che sono nel parco, che non sono solo beni naturalistici e ce ne sono molti. Noi abbiamo diversi centri di visita sugli animali, abbiamo diversi centri di visita sulla flora, insomma abbiamo delle risorse notevoli in questo senso, ma anche abbiamo un parco che è fatto di 39 centri storici, di grandi monumenti, di eremi, è fatto di tante cose che a volte si conoscono solo in parte, a volte non si conoscono per niente e che comunque vanno valorizzate. Per finire abbiamo un patrimonio anche di imprese che permangono, quindi abbiamo un patrimonio fatto di gente che lavora nel territorio del parco e che noi abbiamo tutto l'interesse di sostenere con le loro produzioni pregiate e perché sono delle imprese che producono dei beni che sono identificativi ed essi stessi attrattivi all'interno del territorio del parco. Quindi stiamo facendo un'operazione di grande complessità che credo che darà degli effetti molto sensibili nel giro di qualche mese. Credo molto presto vedremo dei risultati da queste operazioni di promozione. Luciano Di Martino, nuovo sito istituzionale del parco nazionale della Maiella, come nasce e quali sono i benefici? Sì, buongiorno. Allora, il nuovo sito del parco è uno strumento importante in questa fase di promozione del territorio, soprattutto anche in questa fase di ripresa del post-covid. Oggi sentiamo che i media parlano di boom di vacanze in Italia alla scoperta dei paesaggi più belli, Gli stessi che si pensi erano anche evidenziati dall'abbate Antonio Stoppani nel 1876 nel suo libro Il bel paese. Ecco, già da questo rimando storico riusciamo a capire come il territorio e la bellezza dei luoghi diventano uno strumento di comunicazione e una risorsa turistica, oltre che un fattore di identità nazionale e regionale. Sì, con questo nuovo strumento ci si avvicina maggiormente gli utenti e i visitatori e si facilitano un po' tutte le operazioni. Certo, assolutamente sì. Il parco nazionale della Maiella diventa così una destinazione ed in questo modo attraverso il sito, quindi attraverso questo nuovo portale, possiamo anche agevolare tutte le nostre cooperative di lavoro e tutti gli accompagnatori, le guide escursionistiche. Chiunque ha un'attività commerciale legata al turismo può agganciarsi al nostro sito e quindi diventare una destinazione in modo da fare un servizio per il nostro parco, per il nostro territorio. Davvero per concludere, quindi maggiori interazioni grazie sia al sito anche ai social? Sì, assolutamente sì. Il parco da sempre, ma lo ribadisco, soprattutto in questa fase di emergenza Covid, ha ampliato l'utilizzo dei mezzi social e abbiamo avuto buoni numeri, quindi abbiamo riscosso successo e questo ci ha portato quindi a insistere anche nel chiudere tutto questo lavoro sul nuovo sito. Francesco Rivelli, si rinnova la struttura dell'ente parco con il nuovo sito istituzionale? Sì, è il nuovo sito istituzionale, un sito che è stato realizzato tutto con il personale dell'ufficio marketing e dell'ufficio promozione dell'ente parco, quindi questo ce ne rende particolarmente orgogliosi ed è un sito che oltre a avere la sua funzione istituzionale ha anche un taglio fortemente promozionale. Di fatto rappresenta una vera e propria vetrina di quelle che sono le attività che vengono organizzate all'interno del parco e funge anche da centro di prenotazione unico per tutte le iniziative che vengono realizzate sull'intero territorio del parco, sui 39 comuni dove noi abbiamo disseminati oltre 20 punti, informazioni, centri di visita a cui si aggiungono poi aree faunistiche e giardino botanico. Quindi, come dire, una versione che si apre al territorio e vuole rappresentare un vero e proprio contenitore di quelle che sono le proposte per i turisti e per tutti quelli che vogliono visitare il parco. E quindi appunto è un modo per interagire, almeno a facilitare molte operazioni in fuori degli utenti. Assolutamente sì. Poi ecco, una versione particolarmente snella, una versione di questo sito che è anche facile da usare, molto intuitiva, molto interattiva, connessa direttamente con i canali social del parco. Il mondo social dove il parco della Maiella è particolarmente dinamico. Abbiamo la nostra pagina di Instagram, la pagina tra quella dei parchi nazionali in Italia, la più seguita. Per quanto riguarda Facebook, siamo sul podio secondi al parco del Gran Paradiso. E quindi anche da questo punto di vista, tenuto conto che poi alla fine i social sono quelli più visitati, questo collegamento e questa interazione forte fra il sito e i social sicuramente consentirà a questo strumento di essere davvero alla portata di tutti e di poter essere una opportunità per gli operatori del nostro territorio di potersi proporre in maniera integrata a quelli che sono i turisti e visitatori a chiunque interessato a conoscere il parco della Maiella. Di nuovo ad Alessandro, nuovo sito istituzionale per l'ente del parco nazionale della Maiella, una buona iniziativa anche considerando questi tempi. Sì, abbiamo voluto rinnovare, oltre che nella reazione grafica ovviamente del portale istituzionale del parco nazionale della Maiella, ma appunto nel rinnovarlo abbiamo cercato di puntare più maggiormente sui servizi. Quindi su questo nuovo portale, oltre che a scoprire ovviamente tutte le bellezze e le peculiarità naturalistiche del parco nazionale della Maiella, ci sarà anche una possibilità di visionare tutte le proposte di visita e quindi le esperienze che si possono intraprendere nel territorio del parco nazionale della Maiella. Le proposte fatte da un'intera rete dei nostri centri visite e centri informazioni si troveranno direttamente sul portale istituzionale del lente, quindi ci sarà anche una possibilità per un fruitore direttamente dal portale del lente di poter partecipare poi di fatto delle esperienze di visita nel parco. Ovviamente inoltre sul portale si trova appunto tutto quanto quello che è occorrente per quanto riguarda la fruizione. Noi abbiamo circa 1000 km di rete sentieristica e all'interno del portale nella sezione appunto sentieristica è possibile trovare tutta la descrizione di ogni singolo itinerario escursionistico del parco nazionale della Maiella, quindi si troverà una scheda tecnica dell'itinerario, una descrizione e anche la possibilità di scaricare una traccia da poter portare con uno strumento GPS o direttamente su un cellulare da poter portare con sé poi in escursione. È possibile anche prenotare le visite ed altri servizi e anche interagire via social? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dal nostro portale abbiamo creato di fatto anche una piattaforma unica di prenotazione per le varie attività. Tutte queste attività di fatto vanno a costituire poi il piano editoriale dei nostri canali social, sia maggiormente parliamo appunto del canale Facebook e del canale Instagram dove siamo particolarmente attivi. Addirittura la nostra pagina Instagram è la più seguita d'Italia per quanto riguarda le aree protette, i parchi nazionali d'Italia. Inoltre stiamo attivando anche in quest'altro social, cioè che è il WhatsApp, e quindi l'attivazione di liste broadcast dove ogni utente liberamente può iscriversi appunto nella broadcast, quindi nel rispetto totale della privacy. Nessun altro utente può vedere il numero dell'altro componente della broadcast e quindi di fatto in maniera sistematica ricevere tutte le informazioni generali insomma sul parco nazionale della Maierna, ma maggiormente appunto le opportunità di visita che settimanalmente si rinnovano e mettiamo a disposizione per la fruizione del nostro parco.